No! No! Basta! Cazzo ai miei occhi! Brucia! Chi ha ordinato la pizza durante il match? Chi è stato? Chi cazzo ordina una pizza quando ci si lotta e ci si spara in chiostro ovunque? E se poi va a finire tutto sulla pizza, eh? Rovinerà il sapore! Rovinerà il sapore! Pessimo luogo per una pizza! Pessima idea! E la mancia chi gliela dà? Da questa parte, sì, ho ordinato la tripla mozzarella, la potresti portare qui? Stupidi idioti! Stupidi idioti! Pessimo! Pessimo! Grazie a tutti.